Tre mostre d'arte da non perdere in Italia adesso, una a Bologna, un'altra a Firenze e poi a Brescia. Dunque, partiamo con la mostra bolognese di Julie Haumont, la prima mostra in Italia di questa artista nata a Parigi. Julie Haumont presenta una serie di sculture in ceramica molto femminile, potremmo dire che peraltro fanno luce su una sorta di mondo al femminile, con queste figure molto delicate, peraltro decorate ulteriormente con colori delicati che finiscono per massaggiare idealmente la ceramica. Julie Haumont presenta queste sue opere alla Galleria Car di RDE di Bologna. Poi, sempre nella Galleria Car di RDE di Bologna, è possibile vedere, oltre alle sculture, anche un'altra componente della ricerca di Julie Haumont, che è costituita da sorte di, diciamo, arazzi, sorte di veli, insomma, delle opere che in qualche modo potrebbero essere inquadrate in quella che è la cosiddetta fiber art, quindi una mostra anche composita, da un certo punto di vista, con una forte vocazione artigianale. Poi, la seconda mostra, invece, è quella di Roberto Juárez, un artista, diciamo, ispanico, nato a Chicago. Nella, diciamo, Juárez presenta alla Galleria a Palazzo di Brescia una serie di dipinti, diciamo, l'arte di Juárez è caratterizzata da, come dire, questa volontà di trascendere una semplice figurazione per arrivare sino a delle punte di minimalismo sempre sostenute, però, diciamo, da colori, anche da riferimenti, potremmo dire, un po' pop, ecco, che tradiscono, ma devo dire in senso positivo, ecco, come dire, la sua origine ispanica e anche quella che è la relazione, poi, con la cultura statunitense, nella quale egli si è trovato immerso sin dalla nascita. Poi, ultima mostra, la mostra di Mauro Betti, con quella che possiamo definire una sorta di figurazione minimalista, opere che anche in questo caso, anzi, ancora più rispetto che nel caso di Suárez, nel caso di Mauro Betti, in questa sua mostra, adesso, la galleria Il Ponte di Firenze, nel caso di Betti, diciamo, la sua figurazione si spinge ancora più verso l'astrattismo, verso un minimalismo, ecco, appunto, quasi informale, vi campeggiano anche codici, diciamo, lettere, ecco, questo è anche uno degli elementi forse più interessanti della ricerca di Betti, è la mostra alla galleria Il Ponte di Firenze, è sicuramente l'occasione adatta per vedere le opere di questo artista nato negli anni 50. Quindi, vi lascio con queste tre mostre, fatemi sapere sotto il video quale di queste tre mostre, quale di questi tre artisti vi stuzzica di più, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube Giuseppe Alletto e a seguire le mie attività, in quel caso, prettamente più artistiche che divulgative, seguire le mie attività su Instagram, a seguirmi sul profilo Giuseppe Alletto Visual Artist.